Sono Niconello, presento la mia azienda agricola, casa di Niconello, siamo in Piemonte, Italia, regione migliore dei vini rossi in Piemonte. La nostra azienda agricola ha 40 evo di vigneti, siamo presenti in Piemonte dall'ordine di Castilla di quattro generazioni, produciamo tutti i vini rossi con zone selezionate, principalmente del Barolo, Barbaresco, Nebbiolo, Barbera, Floreo Arnè. Voglio presentare questi vini della mia tradizione per tutto il Giappone con la grande selezione che abbiamo sempre adoperato e che dobbiamo soluzionare sempre di noi. Grazie al Giappone.